Gentili telespettatori, buona giornata. Conte e Letta costretti alla frenata sull'elezione del sindaco di Roma, sul loro candidato, perché intanto Nicola Zingaretti era favorito ma l'alleanza 5 Stelle PD non regge. Intanto Zingaretti era favorito ma non ha mai detto sì perché in realtà non ha voglia di fare il candidato sindaco e tantomeno il sindaco di Roma perché la città deve risolvere tante di quelle cose che è un lavoro quello del sindaco di Roma veramente difficile. Insomma non si sa ancora, non c'è il nome, ma il Movimento 5 Stelle decide di sostenere Conte e decide di sostenere Virginia Raggi. Conte sa benissimo quello che si è fatto e non si è fatto a Roma perché lui ha vissuto lì e tuttavia è sempre a Roma, sa perfettamente com'è la città, se è migliorata e peggiorata in questi anni, però è costretto a sostenere la ricandidatura di Virginia Raggi sapendo perfettamente che la città è come tutti sappiamo. Ma il sindaco di Roma in realtà non lo vuole fare nessuno, come racconta anche Antonio Polito sul Corriere. Ci sono problemi di tutti i tipi a Roma. Ecco, come diceva Edoardo De Filippo, se ti propongono una cosa rischiosa come governare una grande città, la risposta non è sì né no, ma è mo' vediamo quello che sta facendo Zingaretti. Adesso ci penso, adesso vedo e intanto fa passare il tempo. Non vuole dire di no per non fare la figura di quello che non ha voglia di proporsi come candidato sindaco. Insomma, se glielo chiedevano a Zingaretti e se le condizioni c'erano, lui la faccia ce la metteva, dice qualcuno, anche se io credo di no. Intanto continua a dire vada, vada Gualtieri, sì, Gualtieri, candidato sindaco. Zingaretti non intende, preferisce rimanere lì in regione, più comodo, meno problemi. E allora così Roberto Gualtieri, ex ministro dell'economia, si candida alle primarie del centrosinistra e vuole vincere questa partita interna. Enrico Letta, il nuovo segretario del Partito Democratico, che fino all'ultimo avrebbe voluto Zingaretti come candidato sindaco, si accontenta e fa forza al candidato Gualtieri. Giuseppe Conte, che sta tessendo la tela con l'altro alleato, con il suo alleato, il PD, dopo un ultimo intricato tentativo di mettere pace nel suo quartier generale, ha detto Enrico Letta che no, non ce la faceva a far digerire Zingaretti ai suoi. Due assessori regionali di Cinque Stelle, Roberta Lombardi e Valentina Corrado, si sono assunte il compito di mettere la parola fine su una trattativa estenuante e infruttuosa tra PD e Grellini. Quindi no a Zingaretti. Non possono accettare la candidatura di Zingaretti e dire no a Virginia Raggi. E quindi non possono accettare la candidatura di Zingaretti al Campidoglio senza far cadere la giunta regionale. Così l'ex segretario del PD non può accettare che la sua creatura tracolli, seppur involontariamente per causa sua. E così Roberta Lombardi si tiene anche la Virginia Raggi, che non gli è mai andata troppo a genio, purché non avanzino manovre che vedono i Cinque Stelle Pierpaolo Sileri, milanese e con conflitti di interesse, vista la sua partecipazione al gruppo che vuole acquistare il complesso sanitario romano del Fatebene Fratelli, candidato alla Regione Lazio. Insomma, così la politica delle alleanze tra PD e Cinque Stelle si arena proprio sul Comune di Roma e probabilmente su tutte le altre realtà di grandi città, di medie e piccole. Cinque Stelle e PD devono correre da sole alle elezioni amministrative perché i due partiti sono incompatibili. Erano al governo, il PD era al governo con i Cinque Stelle, su invito dei Cinque Stelle per non andare a casa e non rimanere disoccupati dalla politica hanno tentato l'ultima carta, quella di invitare il PD al governo che ha accettato. Prima di mai o mai col PD, Zingaretti diceva mai con i Cinque Stelle e poi hanno governato insieme e adesso devono fare un'alleanza duratura per sempre, per avere una possibilità di poter battere il centrodestra alle prossime elezioni politiche. Ma questa alleanza di convenienza che c'è a Roma nelle città non regge perché a Roma serve l'alleanza per non perdere il posto in Parlamento, mentre nelle città, nelle elezioni amministrative, questa cosa non c'è. Pertanto i Cinque Stelle non hanno nessuna intenzione di allearsi col PD perché non hanno nessuna convenienza personale. Insomma, tranne sorprese dell'ultimo minuto improbabili, ma mai dire mai in politica, si apre una partita diversa. Virginia Raggi ci riprova, ha dalla sua che aiutarla convintamente può essere l'ultima spiaggia per cercare di evitare la scissione nei Cinque Stelle. Mentre dalle parti del PD si è letto l'editoriale del Fatto che pur al fiere del governo Conte avvertiva Zingaretti, sostenitore fino all'ultimo del governo giallorosa, di non mettersi in mezzo su Roma. L'avvertimento del Fatto di Travaglio era non mettetevi in mezzo nelle elezioni di Roma, lasciate stare la Raggi, ecco, lasciate stare Zingaretti in regione, lasciate stare la ricandidatura della Raggi. Ma probabilmente, almeno da quello che si sente, difficilissimo che la Raggi possa essere riconfermata perché com'è la condizione di Roma non fa sì che i siano contenti da poter rieleggere Virginia Raggi. E Roberto Gualtieri poi, se come pare, vincerà le primarie dovrà dimostrare di essere capace di prendere voti anche al di fuori dei quartieri dentro le mura romane dove ha vinto le supplettive e in qualche modo dovrà vedersela anche con Carlo Calenda che già lo accusa di essere il risultato dei vetti dei Cinque Stelle. Ma per Enrico Letta, che si è speso per l'intesa, si annuncia invece la prima sfida in un partito di un certo tipo, con Roma in bilico e con Giuseppe Sala, dato per vincente a Milano, che fa partita a sé. Vedremo quello che succederà in questi giorni. Comunque le elezioni comunali non sono poi così vicine, si parla di ottobre, ancora ce n'è di tempo, manco fossero quelle politiche nazionali che se ne comincia a parlare a maggio. Però questi sono i nuovi temi politici. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, siamo anche in TikTok, Tele Italia di Luca Vincitore, e nell'altro canale di YouTube, Tele Italia Seconda Rete. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.